un calorodo saluto a voi tutti amici di tv a vicenza benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo buona settimana sarà una settimana questa caratterizzata da diffusa variabilità per la presenza di una saccatura in pieno oceano atlantico che convoglierà dei sistemi perturbati a fasi alterne e saccatura che invece sta portando molto caldo al sud italia pensate che nelle aree di palermo si sono registrate anche temperature minime prossime ai 30 gradi non ci riguarderà noi da vicino questo le temperature non saranno in calo durante la notte saranno meno fredde rispetto ai giorni scorsi durante il giorno ci saranno dei momenti quando uscirà il sole che si faranno sentire bene queste temperature andiamo a vedere cosa accadrà nel corso di martedì una giornata di tempo abbastanza tranquillo dico abbastanza perché in pianura ci sarà sole abbastanza diffusa attenzione a qualche foschia nelle prime ore mentre nelle aree montuose ci sarà qualche nube in più la possibilità di qualche goccia di pioggia nel corso del tardo pomeriggio sera le temperature come dicevo saranno in aumento nei valori massimi per quanto riguarda invece mercoledì arriverà una nuova perturbazione non molto intensa porterà delle precipitazioni soprattutto in montagna e qualcosetta anche in pianura nel corso del pomeriggio diffusa variabilità caratterizzerà anche i giorni successivi con ora conclusa ci sentiamo nel prossimo appuntamento